Ieri avevo sentito carabinieri che avevano detto che era tutto tranquillo, avevo sentito prefettura e ULS, questa è la decisione, questo è il piano e quindi finché non si fanno fare i tamponi rimangono lì e tanto non escono comunque, quindi lo capiranno che devono farselo fare. Senza tampone la quarantena dei richiedenti asilo potrebbe durare vita natural durante. La situazione all'ex Zanusso rimane sostanzialmente invariata. domani il nuovo tentativo dei sanitari dell'ULS di effettuare i test sui 175 ospiti della struttura opitergina, mentre i 5 ad oggi positivi sono stati messi in isolamento in una tendostruttura. Il pericolo Covid ha alzato, il livello di insofferenza degli opitergini come ci racconta il sindaco contro un hub che è sul territorio ormai da tre anni. Il richiedente asilo dovrebbe avere risposta nell'arco di due mesi, no non ce la facciamo, sei mesi, ma tre anni è assurdo, è assurdo che siano ancora in attesa, siano ancora richiedenti asilo perché la maggior parte di queste persone è lì dentro dal 2017 e quindi li stiamo praticamente continuando a mantenere come è stato. Stamattina il primo cittadino si è messo in contatto con il presidente Zaia, entrambi allineati sulla linea dura contro i grandi centri di accoglienza, così come contro l'accoglienza diffusa. E se tu ti dici voglio essere rifugiato in Italia, accetti anche le regole del paese nel quale chiedi di essere ospitato, che prevedono piani di sanità pubblica. Se vieni qua a fare il fenomeno è giusto che ti ricaricano in una barca e ti riportino a casa. Loro gli devono fare tutti i tamponi e se io posso fare provvedimenti per essere ancora più incisivo li faccio, sono a disposizione. I prefetti lo sanno. Dura critica alla gestione dell'emergenza è arrivata oggi anche dal sindacato della polizia trevigiano. Oggi è stato utilizzato il personale delle volanti, il controllo del territorio non deve essere toccato, non esiste che di notte c'è una volante sola, perché se c'è un intervento con persone armate, quelle persone, quei colleghi rischiano la vita, non esiste una cosa del genere. Siamo arrivati alle condizioni assurde.